Tele 2 Ruti, una televisione monolocale. Come si chiama quest'uomo? Marco Pannella, me lo ricordo col maglione blu e il ciondolone col simbolo della pace, dico bene? No, la pace è antimilitarista. Io sono non violento ma non pacifista. Mi sono espresso male. E' il bel simbolo della mano che spezza il fucile. Quanti anni? Poi ce lo ricordiamo pure col bavaglio. E poi vestito da Babbo Natale giallo. E da Fantasma no. Fantasma no. Era Fantasma il più bello. Tele 2 Ruti. Era scenicamente bello. Una televisione monolocale. Marco Pannella, vi vogliamo bene. Grazie.